Che ricordi hai della tua mamma? Hai qualche ricordo? No, no, di mia mamma... Se n'è andata che tu eri piccola, quanti anni aveva quando mamma se n'è andata? Un anno e mezzo. E non ricordi nulla di lei? Nulla, nulla? No. E Paola? E Paola è arrivata quando credo avevo circa nove anni. Che mamma è stata per te? Fantastica, ma mi ricordo il primo giorno che l'ho conosciuto. Ogni tanto mio papà mi portava a conoscere qualche fidanzata, credo. Un giorno ho arrivato a casa con Paola, che era una donna bellissima, in minigonna. Aveva una minigonna a pieghe nera, i tacchi alti neri, queste gambe bellissime, i capelli rossi come il fuoco, questo seno grande. E appena l'ho vista mi sono innamorata. Nel primo istante in cui l'ho guardata. Ce la stai riscrivendo con gli occhi della bambina di nove anni, ti ricordi quel giorno perfettamente, Antonella? Sì. E poi mio papà dopo un po' mi ha chiesto se mi piaceva. Io gli ho detto, è bellissima papà, sposala. Ed ero tanto orgogliosa di chiamarla mamma. Finalmente. Avevi anche tu una mamma. Avevi anche tu una mamma. Avevi anche tu un하는 e la mamma. Oh no. Avevva anche tu una mamma. Avevva anche il nostro amico. Avevi anche tu un'amico di το acqua.